Anche con le live con la Nintendo Switch, con i nuovi, tra parenti, tra mille virgolette nuovi, perché sono circuiti rimasterizzati delle precedenti edizioni, di Mario Kart 8! Lo dico subito, se inizia la streak che mi butta fuori dalla partita, perché il gioco è buggato per altri motivi, io sto gioco lo disinstallo in live, perché mi son già rotto i cojoni! Mo' vediamo! Enprotec! Ma io dietro alla nave mica l'ho vista quella montagna là? Poi mi sa che devo andare a spostare la cosa della live, che mi sta in mezzo alle valle No! Ah, non si può mirare! Che mai è già morto questo? Come è dietro? Ah, ma sono i miei amici, ma baffan No! Come si fa a correre? Scusate, ma io non vedo i nemici, ma perché loro ci sparano? Aiuto? Ah! E non posso fare, non posso? Certo che è online, però... Boh... Porca troia! Mi fa strano che non posso mirare Cioè, non c'è il tasto per la mira No, no, mamma mia che fastidio Su console Il movimento in stile... Con lo stile del... Ok, con lo stile del mouse Ma mo' come cazzo faccio uscire da qua? Posso dire una cosa zà mia? Proprio zà di mia, eh? Posso dirla? Posso esprimere un parere su questo gioco? Posso permettermi di esprimere un parere? È un free-to-player, va bene, ok, eh? Però posso dire che è uno dei più brutti FPS Che abbia mai provato nella mia esistenza? Se posso, eh? Se posso permettermi di dire questa cosa È uno dei più brutti FPS Che abbia mai visto Anche sinceramente a livello grafico Vabbè, a livello grafico non boh, non lo so Però... Almeno... Prima impressione Prima partita Proprio una roba brutta, eh? Cioè questo è proprio da PC e basta Non so proprio perché non l'abbiano fatto Solo per PC Questo gioco E non capisco perché l'abbiano fatto per console Si vede lontano un miglio Che qua è da mirare soltanto con Con la puttana della mamma di quello là che non muore Ma scusate Ma se io c'ho la mira sparata La madonna Tutti qua Quanto si vede che questi giocano da Da PC Da tastiera ma Vai avanti e muori Certo, ovviamente è un free to play Quindi non lo si butta via Eh, per l'amore zero Però, porca troia Mamma mia Mamma mia che gioco è Ma cazzo ha fatto andare quello là sopra Ma non c'ho manco le bombe Se la faremo ad andare avanti A superare la metà di questa puttana eva di nave Ma ha fatto Ma ma ha distrutto Abbiamo questo No, è gratuito, eh È gratuito Lo sto giocando proprio perché è gratuito Mi era quasi passata per l'idea di acquistare la modalità storia Ma non ci penso manco molto Mamma mia che schifezza Mamma mia Mamma mia Cioè mi viene voglia di attaccare Non so come mouse e tastiera Anche se non ce l'ho Porca troia E mi si stanno scaricando più le Pure le cose Pure le batterie Mamma mia Mamma mia che cos'è questa cosa Dal fatto che non mi fai mirare Mi fa niente Domani mi sa che prendo Una giornata di pausa Perché devo appunto fare Un po' di Devo fare un po' di video Tratti dalle live Quindi non so più Cioè non so il tempo Non ho il tempo di fare altre robe In altri giorni Ma scusate ma c'ho la granata Come faccio a lanciare Ah Cioè devo selezionare la granata Ho fatto il marker No perché c'ho quell'arma qua Ma Oh E dove cazzo è la mia arma Con Y si cambia arma E me l'ha tolta Ma questo Ok va bene Andiamo avanti così a morire come coglioni Perché mi è sparita l'arma Va bene Bello come gioco È gratuito ragazzi Scaricatelo tutti eh Accorrete tutti in massa a scaricarlo Mamma mia Dove che dopo devo mettere a posto un po' la Come si chiama La X Mi fa No La X Mi ricarica E dopo mi fa cambiare l'attrezzatura Mamma mia Fatemi mettere a posto qualcosa Va là Ah controller Sensibilità Cazzo è la sensibilità di mira di precisione Che non c'è la mira Azione speciale arma Usabilità Arma da lancio Zetta arma Tabellone segna punti Cambio arma Osservo Arrampicati Mamma mia Il menu poi così Cristo Il menu col mausetto così Mamma mia E ricarica Mamma mao Madonna mi schiaccio Gli X Che ha all'inizio Ma quanto è buggato Sto gioco Non Lanzate mai Ok Non lanzate mai La granata Perché altrimenti Non potete rimettere più L'arma principale Cioè guardate Metto la granata E la lancio Ok Poi mi seleziono a coltello Schiaccio Y E mi da la pistola E dopo non posso più selezionare la prima Magari sono impedito io eh Non ci vuole neanche tanto Che sia impedito io eh Vabbè Questi si sponchillano Questi non hanno ancora visto Che c'è anche il passaggio Qua dietro Ok Così me la fa cambiare Ancora E' un po' pessimo sto gioco eh Faccio cagare anch'io con la mira eh Ma tanto eh Anche perché ripeto Quelli lì staranno giocando Su Eeeh Da No Staranno giocando da PC Ma Ah mamma mia che schifezza Ah mamma mia Mr. Bean MVP del turno 8-21 E mi girano pure i coglioni Che ci ho sbloccato un obiettivo E' quello